Abbiamo 5 chest leggendarie che adesso andremo ad aprire Sapete bene che queste chest leggendarie sono veramente pazzesche E contengono item che sono incredibili Quindi, 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 ringrazio il fan che me le ha date E apriamo la prima chest leggendaria Oh mio dio, se ci riesco a trovare di nuovo qualcosa di stracostoso Che vale tantissimo, sarei contentissimo Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall E benvenuti in questo nuovissimo video del faction Oh mio dio, quasi non mi potete vedere Perché è pieno di fan E sono entrato in un orario completamente random E mi avete accerchiato, siete veramente tantissimi E soprattutto sono contento che avete supportato alla grandissima Il primo episodio del faction Infatti se non l'avete visto ragazzi, guardatelo Troverete il link qua sotto in descrizione L'avete supportato veramente alla grandissima Avete lasciato tantissimi mi piace Tanti commenti positivi E mi avete letto tutti quanti che la volete vedere come serie Quindi, quindi, quindi Iniziamo con 3 bei chest opening Della giornata Quindi abbiamo 3 belle chest common E speriamo di avere un po' di fortuna Così come ho avuto fortuna Nel primo episodio E tanti di voi mi hanno detto Che ho fatto un pochettino male A vendere quel Oh, ho trovato soltanto una regular Di 5 smeraldi Beh, ok, poco male Dicevo, tanti di voi mi hanno detto Che ho fatto male A vendere quel Iron Golem Spawner A soltanto un milione Anziché venderlo A un milione e cinquecentomila O due milioni addirittura Però, raga, pensate che era la mia prima partita Stavo registrando Ed ero stra-eccitato All'idea di aver trovato qualcosa di buono E non sto trovando assolutamente niente Adesso da queste chest Tutte queste cose adesso le regalo ai fan Perché magari loro possono servire E oggi ragazzi ci andremo a creare Una fazione Oh mio Dio Sì, non ho una fazione Sono senza ancora Perché volevo vedere prima Se vi piaceva il video Quindi se vi piaceva questa serie Altrimenti avrei speccato del tempo A farla E adesso ce ne andiamo Praticamente nel wild dopo E cerchiamo di costruirci una fazione Ma prima di tutto Allora Possiamo tutta questa roba Uh, mi stanno regalando Delle cose No, grazie ragazzi Per ora non mi servono queste cose Anche perché non sono Proprio delle cose Potentissime che mi servono Allora, mettiamo via tutto questo Ci abbiamo dei diamanti Li mettiamo qua dentro L'ender chest La mettiamo al posto della barchetta Chi se ne frega della barchetta Adesso io ho paura Di uscire dallo spawn Perché sono abbastanza sicuro Che se esco Mi picchiano tutti E io non sono mai uscito È la prima volta che esco dallo spawn In questo server Però sono messo molto bene No, questi me li tolgo Questi ragazzi me li tolgo Perché non vorrei assolutamente perderli Perché sono i famosissimi gambali leggendari Che ho trovato nel primo episodio Guardate quanta gente Che mi sta cerchiando Oh mio Dio Ok, mi butto Vediamo che cosa succede Uh Ok, sembrerebbe Tutti adesso Tutti mi seguono Tutti mi seguono Tutti mi seguiranno Tutti mi seguiranno È impossibile È impossibile Vediamo se Non ho la minima idea Di cosa sia successo In quella parte Il programma di registrazione È impazzito Per qualche secondo Posso fare Slash Non lo so Slash wild Magari Come funziona Posso andare Ok, ok Posso andare Completamente a caso Adesso In un punto Ah Finalmente ragazzi Sono uscito Sono finalmente Nello wild Ai fan Non mi stanno cerchiando Quindi ho il tempo Di farvi vedere Una cosina Abbiamo 5 chest Leggendarie Che adesso Andremo ad aprire Sapete bene Che queste chest Leggendarie Sono veramente Pazzesche E contengono Item che sono Incredibili Quindi 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 Ringrazio il fan Che me le ha date E apriamo La prima chest Leggendaria Oh mio dio Se ci riesco a trovare Di nuovo qualcosa Di stracostoso Che vale tantissimo Sarei contentissimo E qua ragazzi Abbiamo una leggendaria Due leggendarie E due rare Vediamo Abbiamo trovato Uno zombie pigment Spawner Credo valga Anche questo abbastanza Un eletto Fable protection 4 Ok, identico Ai nostri pantaloni Praticamente Un piccone Efficiency 5 Che ce l'abbiamo già Però è sempre meglio Averne un altro E uno spider spawner Gli spawner Ragazzi Mi avete detto Che valgono tantissimo Quindi li andiamo A conservare Ora però Devo buttare Un po' di spazzatura Come per esempio Qual è la spazzatura Sì dai Il cibo lo buttiamo Questo lo buttiamo Le frecce le buttiamo Perché abbiamo Tanto di meglio Da mettere qua dentro E anche questo qua Lo andiamo a buttare Perfetto Abbiamo ancora Altre 4 leggendarie Ragazzi Vediamo cosa ci esce Da questa Speriamo di essere Ancora più fortunati Se troviamo un altro Iron golem spawner Ragazzi Veramente diventiamo Stra stra ricchi Lo rivendo Allora Sei hopper Questo è un item leggendario Veramente What the fuck Gli hopper Degli altri pantaloni Fabled Ottimo 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 Non sono male Pig spawner Che ce l'abbiamo già E un altro piccone Ok sembrerebbe che questo piccone Non sia poi così tanto raro Perché continuiamo a trovarlo Quindi me lo tengo adesso In inventario E questi si mettono insieme Ok si mettono insieme Per fortuna Apriamo le altre Dai 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 Vediamo in questo modo Che cosa ci può uscire Se abbiamo tanta fortuna Ragazzi diventiamo ricchi Anche oggi Oh mio dio Mi sono uscite soltanto delle rare Nemmeno una leggendaria Che schifo Però allora Zombie spawner Blade spawner Che Oh mio dio Blade spawner valgono tanto Credo che valgano tanto Ragazzi I blade spawner Credo che valgano tanto 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 Tanti soldini Quindi molto buono Molto comodi Però come facciamo adesso A metterli qua dentro Non abbiamo mica tanto spazio Allora direi di buttare questi Che non mi servono Questo lo buttiamo pure Questo pure Perché tanto li prendiamo Ogni giorno Con il kit E queste cose valgono decisamente Molto di più Quindi è meglio metterle Nell'ender chest Continuiamo Apriamo un'altra chest Allora facciamo così Perché se no Ultimamente abbiamo sfortuna Mettiamole completamente random Eh Una leggendaria Una rara E due ultra Ok va bene Le ultra cosa sono Diamond leggings 32 di TNT Diamond leggings Non me ne faccio veramente niente Quindi buttiamo via Invece qua abbiamo trovato Oh mio dio Una spada sharpness 5 Firehast 2 La spada distruttrice Perfetto E qua 10 blocchi di diamanti Oh mio dio Per essere dei leggendari O è questo l'item peggiore Di tutti quanti ragazzi Questi blocchi di diamanti Oppure valgono veramente Tanti soldi Credo la seconda Continuiamo L'ultima chest Leggendaria Vediamo cosa riusciamo a trovare Dai 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 Un po' di fortuna Rara Leggendaria Perfetto Rara E Ultra Ok iniziamo dall'ultra 4 blocchi di diamanti Ormai sono ricco Sono pieno di diamanti 8 god apple Non male 9 blocchi di Smeraldi Che non so cosa farmene E un altro blade spawner Allora ragazzi Se il blade spawner Vale tanti soldi Secondo me Siamo di nuovo ricchi Mettiamo anche la TNT Qua dentro La spada Teniamoci quella brutta Questo ce l'abbiamo Questo qua dentro Ok adesso abbiamo tendenzialmente Solo spazzatura E volevo Perché ho tutta la spazzatura Nell'inventario E anche l'armatura C'ho quella di cacca Perché ragazzi Volevo andare in giro Per scavare Una piccola caverna Per poter creare La mia fazione Ovviamente Voi sicuramente Lo sapete meglio di me Io sono un nabbo nelle fazioni Quindi mi dovete aiutare Voi con i commenti Qua sotto Mi dovete dire Cosa devo fare Perché sicuramente Sbaglierò tantissimo Infatti probabilmente Sbaglierò anche Nel cercare di farmi Una fazione Già dall'inizio Allora controlliamo Un attimo Nel mercato Quanto costano I blade spawner Blade spawner Costano 200.000 300.000 Oh mio dio ragazzi Costano tantissimo Costano tanto 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 Ok Molto buoni Molto buoni Sapete cosa Allora io un paio li vendo Perché non ho molti soldi Guardate Balance Ci abbiamo soltanto Oddio Ho 600.000 Dai mi devo stare zitto Cosa non ho molti soldi Ne ho tantissimi Ok Mi piace questo territorio Che ne dite se Oh mio dio Qua c'era qualcuno Gli hanno griffato la base Altro che mi piace Questo territorio Questo territorio È troppo vicino Evidentemente allo spawn Visto che qualcuno È venuto qua Beh in ogni caso ragazzi Che è successo In ogni caso ragazzi Anche se Se fosse troppo vicino Non vi preoccupate Perché questa per ora Sarà una base Momentanea Quaggiù possiamo scendere Iniziamo a utilizzare Questo bel Efficiency 5 Che ci abbiamo Tra l'altro ne abbiamo anche due Quindi possiamo continuare A utilizzarlo E iniziamo a scavare Per bene In giù In cerca di Di che cosa In cerca di una caverna Possibilmente Ok Siamo arrivati al livello 5 Dovrebbe esserci la bedrock Tra non molto Vediamo Ok No Non c'è la bedrock Oh perfetto Costruiamo allora La nostra base ragazzi Proprio nella bedrock Così Giusto per mettere Un pochettino di cianfrusaglie Che abbiamo trovato Qualche chest Eccetera eccetera E per farmare Un pochettino Questo qua usciranno I silverfish Io odio i silverfish Ragazzi Anche che da quello Usciranno i silverfish Però che dobbiamo fare Li dobbiamo far uscire Eh per forza Li dobbiamo far uscire Quindi rompiamo queste cose E usciranno questi silverfish Schifosi che moriranno Ma Ah ok Pensavo di avere la spada potente Ok continuiamo a far uscire Questi silverfish Morite 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 schifosi Quanto vi odio Siete i mob Che odio di più Proprio al mondo In assoluto Ok Facciamo così Una piccola base Ragazzi Non dobbiamo costruire Niente di imperiale Ovviamente Non ho ancora Se non altro In futuro poi Ok Perfetto Direi che così Può bastare come Come grandezza Perfetto Ragazzi Siccome io non ho Fantasia E soprattutto Sapete bene Che adoro i draghi Io direi che la fazione Per ora La chiameremo Tanto che bug Per ora la chiameremo I dragoni F Create Dragoni Vediamo se Lo posso fare You created a new faction Dragoni You should now F desk No Non mi serve adesso La descrizione Mi serve invece Set home Set home Ok Perfetto Adesso questa ragazzi Sarà la nostra base Il nostro bunker Segreto E direi che per oggi L'episodio è tutto Fa un po' schifo Ovviamente lo dobbiamo redare Però fatemi sapere Qua sotto nei commenti Cosa dovrei fare Secondo voi Come devo continuare Questo episodio E questa serie E ovviamente la serie Andrà avanti Grazie ai vostri commenti E ai vostri consigli E per chi me lo chiederà Sì Inviterò i fan Nella fazione E ai vostri Ciao